luna crescente il mito della crescita filosofo e psicoanalista è uno dei principali traduttori e divulgatori di car jaspers in italia membro dal 1985 dell'international association of analytical psychology è ordinario di filosofie della storia e psicologia dinamica e dal 2003 vicepresidente dell'associazione italiana per la consulenza filosofica fronesis ha collaborato prima con il sole 24 ore poi con repubblica con editoriali su temi di attualità e approfondimenti culturali nel 2018 ha pubblicato per feltrinelli la parola ai giovani parole nomadi e il nuovo professionario di psicologia nel 2011 gli è stato assegnato il premio ignazio silone per la cultura signore e signori umberto galimberti allora questa sera dobbiamo parlare della luna crescente perché avete messo una matita nell'occhio della luna che brutto che è la luna è una cosa bella no ha incantato anche leopardi va bene dunque il fatto che fate una un festival dedicato alla luna per via dell'anniversario di quando ci siamo stati allora abbiamo stabilito che luna crescente forse è un invito a parlare di quella dimensione aberrante che si chiama in occidente crescita l'occidente una parola che significa terra della sera terra della sera vuol dire che tramonta il sole e forse siamo arrivati anche alla vigilia del tramonto della nostra civiltà e le ragioni le vediamo subito con un po di ordine che è il seguente dunque cominciamo a dire che oggi nella nostra cultura il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori non sappiamo più che cosa è bello che cosa è buono che cosa è giusto che cosa è vero che cosa è santo sappiamo solo che cosa è utile e questa egemonia del denaro che ciò per cui accade ogni cosa non è stata l'origine della fondazione dell'occidente un occidente una cultura che è stata sostanzialmente inaugurata da due culture antitetiche che sono la grecità e la tradizione giudaico cristiana in ordine alla grecità aristotele dice che il denaro non può generare ricchezza perché il denaro non è un bene ma il simbolo di un bene e coi simboli non si fa ricchezza infatti in greco la parola denaro si dice nomisma nomos in greco è la legge è qualcosa che vale perché una legge dice che vale se domani una legge dice che il dollaro non vale più o che l'euro non vale più o che una moneta non vale più la moneta non vale più vale per legge vale per convenzione vale perché accolto da tutti vale perché c'è consenso ma non in sé non è ricchezza per cui dice giustamente aristotele col denaro non si può fare ricchezza la tradizione giudaico cristiana dice nel vangelo di luca mutum date ni linde sperantes prestate il denaro senza attendere la restituzione ditola le banche e poi vediamo un po che consenso avete però la tradizione cristiana è contro l'utilizzo del denaro per fare ricchezza anche se poi le banche si sono tutte intitolate con il nome dei santi no banca santo spirito san paolo sant'antonio e via di seguito e tutto questo perché siccome gli ebrei che avevano incominciato a far pagare gli interessi sui prestiti nel senso che tu vuoi fare un affare io ti presto del denaro e però tu me lo restituisci dopo un po di tempo questo tempo me lo devi pagare appunto allora siccome avevano cominciato a fare appunto questa impostazione bancaria i cattolici avevano stabilito che questo gli ebrei lo potevano fare perché tanto dovevano andare all'inferno in quanto dei cidi e quindi non c'era niente di male che loro facessero altri peccati tanto la loro destinazione finale era segnata dopodiché in ocenso terzo è cominciato a pensare ma chissà perché solo loro possono fare soldi con i soldi e noi no e allora è cominciato anche loro dopodiché la tradizione greca si è persa il denaro non è un bene ma è il simbolo di un bene la tradizione giudaico cristiana si è persa prestati i soldi senza attendere le restituzioni ed è incominciato la circolazione del denaro come il bene supremo c'è un senso in cui il benaro ha fatto anche del bene nella storia perché prima della sua introduzione gli uomini si consegnavano ad altri uomini in qualità di schiavi o di servi della gleba cioè dovevano dare tutta la loro vita e la loro persona a chi li faceva lavorare con l'introduzione del denaro invece si è svincolato la vita del lavoratore dalla sua dipendenza dal datore di lavoro si è svincolata perché non il chi lavorava non doveva più dare la sua vita al datore di lavoro ma semplicemente la sua prestazione in cambio di denaro quindi sotto questo profilo il denaro ha fatto una emancipazione nella relazione tra gli umani e poi il bene del denaro è finito sostanzialmente in quella circostanza arriviamo nell'ottocento e che dice che la società è fatta da individui e da persone le persone sono quelle che hanno denaro gli individui non hanno niente anzi lui li chiama addirittura polvere della storia e solo le persone hanno dignità perché avendo il denaro sono tenuti ci tengono a osservare le leggi perché se le trasgrediscono perdono la loro ricchezza mentre gli individui che non hanno soldi non perdono niente e nella vita le provano tutte questa è l'impostazione che rega da tra coloro che hanno e coloro che non hanno denaro ed esce con quella espressione abbastanza significativa quando dice homo sine pecunia imago mortis l'uomo che non ha denaro è l'immagine della morte oggi siamo tutti d'accordo vero oggi che del denaro è diventato generatore simbolico di tutti i valori egler è un filosofo oggi potremmo dire di destra che però ha avuto un'intuizione formidabile ha capito una cosa importantissima che consiste in questo quando un fenomeno dice che l'aumenta quantitativamente non determina solo un aumento quantitativo non assistiamo solo ad un aumento quantitativo di quel fenomeno ma l'aumento quantitativo di un fenomeno determina anche una variazione qualitativa radicale del paesaggio vuol dire che se qui viene un terremoto di due gradi dalla scala mercalli non ce ne accorgiamo se viene invece un terremoto di 9 gradi dalla scala mercalli a un aumento quantitativo questo spazio non c'è più diventa un cumulo di macerie la quantità determina una variazione della qualità il primo a sfruttare questo argomento di egler è stato marx grande studioso di egler il quale dice se il denaro diventa la condizione universale aumento quantitativo condizione universale la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene il denaro non è più un mezzo ma il primo scopo per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni questo capovolgimento del denaro da mezzo a scopo da mezzo a fine i filosofi lo chiamano eterogenesi dei fini quando un mezzo diventa lui lo scopo che subordina sei fini traducendo i fini in mezzi per produrre denaro oggi non c'è nessun dubbio che i bisogni degli uomini vengono soddisfatti se producono denaro se non producono denaro non vengono soddisfatti e anche la produzione dei beni viene misurata e limitata la produzione di denaro questo spiega se si fanno troppi pomodori in italia meridionale allora il prezzo si abbasserebbe al punto tale che è meglio distruggerlo in modo da quei pochi che restano venderli a buon prezzo in questa maniera il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori ciò a cui tendiamo ciò a cui subordiniamo ogni cosa e queste sono riflessioni che dobbiamo incominciare a fare per capire un po la natura della nostra cultura della nostra civiltà perché a partire da qua si cominciano a capire un po di cose ad esempio e cominciamo a capire che se il denaro è il principio di tutte le cose si capisce che la politica non ha più niente da fare bacone che ha inventato la politica chiamando la basilica tecnica reggia perché mentre le altre tecniche sanno come si fanno le cose come si devono fare la politica sa se e perché si devono fare qui della politica il luogo della decisione ma oggi la politica davvero il luogo della decisione no non è più il luogo della decisione perché la politica per decidere deve guardare l'economia regolata dal mercato salvini può così dire se ne frega del mercato se ne frega dell'europa ma il giorno che gli investitori stranieri non comprano più il nostro debito noi non abbiamo più soldi per pagare i medici per pagare gli insegnanti per pagare i magistrati per pagare chiunque crolla lo stato perché la politica non è più luogo della decisione luogo della decisione si è spostata sull'economia e allora cosa resta che fare che i politici e politici resta andare in televisione per creare consenso intorno al nulla perché l'impianto decisionale avviene là il mercato è regolato da una razionalità rigorosissima non è la più rigorosa ce n'è un'altra più rigorosa del mercato rigorosa perché perché il mercato come dice bene max weber grande sociologo ed economista tra 800 e 900 dice giustamente che il mercato è una forma razionale rispetto all'accumulazione della ricchezza che si possono fare che si può fare attraverso il furto attraverso il dono attraverso le guerre attraverso l'usurpazione come si è sempre fatto nella storia come si faceva da ricchia se si invadeva e si occupava si portavano via i beni eccetera no queste sono forme di irrazionali di arricchimento il mercato invece introdotto la categoria della razio la parola ragione non è mica nata in filosofia è nata in economia la razio è la giusta equivalenza negli scambi io ti do cinque pecore tu mi dai come razio corrispondente redderazione mi dai un vitello in questa maniera si introduce una categoria matematica di equivalenza negli scambi e per questo il mercato è razionale mercato razionale ma non è la forma più alta di razionalità perché il mercato ancora una passione umana che la passione per il denaro e quindi non è l'ultima istanza della decisione il mercato perché sì la politica per decidere guarda il mercato ed è deciso dal mercato l'economia per decidere cosa guarda guarda dove investire dove investire investire nelle novità tecnologiche per cui l'ultima istanza della decisione rimane la tecnica ma questo capitolo lo lasciamo fuori per il momento la tecnica una razionalità purissima raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi mentre impura quella del mercato perché ancora una passione umana dentro da cui la tecnica è completamente esonerata bene noi in questo contesto ci troviamo a sentirci ripetere ogni giorno che dobbiamo crescere che non cresciamo abbastanza no ogni giorno che se cresciamo dello 01 dello 02 dobbiamo andare in depressione prima in deflazione prima in stagnazione poi non si sa dove come perché fino al fallimento se non si cresce e questa parola però viene buttata lì perché la cosa terribile è quella di buttarli delle parole a cui non corrisponde un ragionamento e questo è il sistema con cui si fa il consenso oggi l'italia si buttano delle parole senza ragionamento ora la parola buttata lì e crescita e ragionamento qual è ragionamento sta alle spalle il pnud che il programma delle nazioni unite per lo sviluppo dice che noi occidentali siamo 800 milioni noi occidentali vuol dire l'europa e l'america del nord canada e stati uniti siamo però al mondo in 7 milioni e mezzo e quindi 6 miliardi e 700 milioni non sono occidentali bene noi occidentali per mantenere questo questo non un altro questo livello di vita anche durante la crisi dice il pnud il programma delle nazioni unite per lo sviluppo abbiamo bisogno dell'80 per cento delle risorse della terra e cosa facciamo lasciamo resta degli altri 7 6 miliardi e mezzo del mondo l'altra popolazione il 20 per cento e vogliamo ancora crescere fin dove è possibile questa questa cosa bukowski lo scrittore americano interessante dice il capitalismo ha soppresso il comunismo bene adesso il capitalismo divora se stesso perché non può più crescere e non può più crescere perché è gente che il resto del mondo mangia una ciotola di riso in più e cinesi altro che una ciotola di riso in più che noi inevitabilmente non possiamo più tenere questo livello se non se non andando avanti a distruggere la terra che non è un serbatoio infinito di risorse questa è la situazione attuale di noi occidentali vediamo di rendercene conto e di cominciare a pensare la condizione in cui ci troviamo e se possiamo veramente continuare nella prospettiva della crescita il capitalismo divora a se stesso dice bukowski uno scrittore americano molto interessante che scrive tanti bei romanzi anche un po porno se volete leggete sono significativi gustosi belli c'è anche una sua delicatezza nel deprecare tutto quello che c'è stivo nel mondo e dice bukowski in fondo noi occidentali siamo guardati dal mercato non come persone ma semplicemente come consumatori come produttori è carina la pubblicità di conad persone oltre le cose ma si riferisce solo le persone che hanno il portofoglio in tasca possono comprare le cose perché sono le cose da vendere che interessa persone sono un appannaggio persone oltre le cose bene allora dobbiamo essere produttori consumatori perché se non consumiamo non si produce quindi bisogna consumare no bisogna aumentare i consumi se non si produce se non si produce c'è la disoccupazione disoccupazione vuol dire miseria vuol dire disastro consumare consumare vuol dire che portare le cose al nulla nel tempo più rapido possibile la fine di un prodotto il fine della produzione è la fine del prodotto il più nel modo più rapido possibile guardate che la data di scadenza non ce l'hanno solamente gli alimentari o i farmaci ce le hanno tutte le cose quando vi si rompe un frigorifero chiamato il tecnico questo vi dice guardi che se cambiamo quel pezzo lì che si è guastato costa più o meno come comprare un frigo nuovo e voi cosa dite vabbè compriamo il frigo nuovo i telefonini che avete in tasca hanno già dentro di loro il principio dell'autodistruzione hanno interiorizzato un fenomeno biologico che abbiamo dentro di noi l'apoptosi le cellule in sovrappiù che diventerebbero dannose si suicidano così i nostri apparecchi si suicidano così ne compri di nuovi no non possiamo aspettare come una volta che si ereditava la credenza della nonna che entrava nella casa del padre poi passava il figlio o i vestiti che si trapassavano no bisogna consumare portare le cose al nulla nel modo più rapido possibile poi quando si parla di nichilismo mi si accusa a me di essere un nichilista no è il mondo stesso che è nichilista il nostro modo di vivere è nichilista io non ho portato con me perché me lo sono dimenticato a casa una bella pagina di di rilke scritta nel 1921 in cui diceva che entrando in una casa dei nonni o dei padri vedeva nei mobili che c'era una storia adesso invece dice ci invadono cucine americane le dice nel 1921 ste robe dove non c'è nessuna storia e sono pronte per la loro distruzione rapida rilke rilke un poeta adesso bisogna specificare tutto perché la scuola non insegna più niente veniamo su come delle bestie siamo l'ultimo paese noi noi italiani per la comprensione di un testo scritto gli ultimi paesi in europa per la comprensione di un testo scritto cioè sappiamo leggere le parole ma non capiamo che significato hanno 70 per cento della popolazione ridotta così oggi pensate davvero che questo sia una modalità per fare ancora un avanzamento nel nostro paese qualcosa che assomiglia al rinascimento no non possiamo più pensare che riuscite a pensare che in un'epoca come questa in un'europa come questa possa nascere qualcuno che si chiama leonardo da vinci beethoven kant no non per colpa degli immigrati per colpa nostra abbiamo perso la cultura non ce ne importa più niente non ragioniamo assumiamo degli slogan dei dettagli ipnotici non abbiamo neanche più idee di partito ci piacciono i leader personalità forti che ci dispensano dal pensare anche perché mettere insieme quattro ragionamenti mi chiede anche un po di fatica bene questa produzione di beni e questa loro destinazione al nulla ha due grosse potenze che la determinano e che la esprimono e che la fecondano e che la potenziano che sono rispettivamente la moda per cui quello che andava bene l'anno scorso non va più bene quest'anno non è più di moda se qualcosa va bene ancora perché efficiente un vestito ancora si può portare però non è più socialmente accettabile e quindi nel giro di un anno bisogna cambiare tutto la moda è una grande divoratrice di cose e anche di cose utili anche di cose buone non si può andare in giro con un'automobile eccessivamente vecchia perché non è più alla moda non ti rappresenta più la moda è una espressione rigorosamente nichilista nichilista la seconda dimensione nichilista è la pubblicità pubblicità è più astuta della moda non lavora sugli irrazionali non è che ti affascina tutti in canti oppure sei depresso a milano c'è una strada la corso Buenos Aires che io la chiamo la strada dei depressi gravi che al sabato si riempie che non riesce neanche più a passare si riempie come una spugna di persone a piedi in questa sfizia di negozi e dove qualcuno dove tutti devono comprare qualcosa per rifarci della loro depressione sapete quegli acquisti maniacali per cui una sera vai a casa contenta poi giorno dopo non ti ricordi neanche più di che cosa hai comprato ecco la depressione anche queste possibilità di recupero giornaliero che sono appunto gli acquisti euforici impulsivi va bene per la crescita va molto bene poi c'è la pubblicità la pubblicità lavora in maniera più astuta di quanto non faccia la moda perché la pubblicità città non produce cose siccome di cose siamo abbastanza saturi io non so se ogni tanto vi è capitato di assistere magari a qualche film drammatico circa non vi voglio indurre alla malinconia tipo non so la fame del mondo gli immigrati sui barconi cose disastrose malattie africane che si potrebbero risolvere con pochi soldi adesso che c'è cinque per mille sarete invasi anche da pubblicità di bambini denutriti e poi subito dopo una pubblicità in cui vediamo i prodotti che la pubblicità ci induce non sentite qualcosa di ingiusto qualcosa di sbagliato qualcosa di esageratamente ricco rispetto all'esageratamente povero ci sentiamo umani anche in quella circostanza bene più grande la pubblicità non produce cose produce bisogni e quando riuscite a convincerti che tu hai bisogno di quella cosa lì poi la cosa te la fa vedere a quel punto ti ha preparato ti ha preparato a quel punto la compri non vedete com'è insistente la pubblicità nella ripetizione di se stessa perché sta creando il bisogno come una una partoriente sta creando il bisogno e quando il bisogno tu l'hai interiorizzato la compri e non mi riferisco solo le novità degli ipad degli iphone di tutte quelle robe lì ma di tutte le cose perché la pubblicità crea il bisogno e poi una volta che il bisogno è interiorizzato ti dà il prodotto non te lo dà la pubblicità ti dà chi la fa la pubblicità bene io vi leggo quattro righe del più grande pubblicitario del novecento che ha fatto un sacco di soldi con la pubblicità è un tedesco che ha lavorato a parigi poi ha fatto i soldi in america e scrive se riesco a leggere qui non si capisce niente queste luci in faccia ma perché non accendete la luce nel pubblico che siete in faccia qui mi costringete a parlare da solo mi viene anche voglia me accendete le luci prima c'erano le luci scrive Friedrich Baigbeder in un libro pubblicato da Fettrinelli qualche anno fa titolato euro 13,89 sono pubblicitario e bene sì inquino l'universo io sono quello che vi vende tutta quella merda quello che vi fa sognare cose che non avrete mai cielo sempre blu ragazze sempre belle una felicità perfetta ritoccate in photoshop immagini leccate musiche nel vento quando a forza di risparmi voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni quella che ho lanciato nella mia ultima campagna io l'avrò già fatta passare di moda io vi drogo di novità e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova c'è sempre una novità più nuova che la fai invecchiare che fai invecchiare la precedente farvi sbavare è la mia missione nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità perché la gente felice non consuma che a un certo punto della sua vita ha deciso che il suo mestiere è stato veramente una sorta lui parla del suo mestiere come di un crimine nei confronti dell'umanità e allora quando si è accorto ha pubblicato questo libro che non ha avuto nessun successo naturalmente come tutti i libri intelligenti la terra la terra la natura in questo modo di pensare occidentale ha fatto cambiare dentro di noi queste sono le cose più pesanti il nostro modo di percepire la natura noi non percepiamo più la natura come luogo della nostra abitazione già heidegger nel 1927 in essere tempo scriveva che ogni volta che vediamo un fiume pensiamo energia elettrica ogni volta che vediamo un bosco pensiamo a legname ogni volta che vediamo un suolo pensiamo al sottosuolo cioè la nostra percezione non riguarda più la natura come luogo d'abitazione per gli umani ma come materia prima da sfruttare e dice heidegger sempre heidegger nel 1951 adesso siamo arrivati a sfruttare non non siamo arrivati oggi abbiamo superato diceva nel 1951 abbiamo superato diceva nel 1951 l'uso della terra siamo arrivati alla sua usura alla sua usura e all'epoca sua l'usura era l'usura delle 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 materie prime ma heidegger preveggente ha detto il passo successivo a cui non tarderemo ad arrivare sarà quello di ridurre la materia prima lo stesso umano il corpo umano che è di wittigste roostof la materia prima più importante quella che si vende meglio i ricambi organici quello diventerà lo sfruttamento finale dice heidegger ci siamo già arrivati naturalmente e come siamo pervenuti a questo concetto secondo cui la terra ha cambiato la nostra percezione cioè il nostro modo di vederla la terra perché abbiamo abbandonato la mentalità greca i greci antichi sono stato il popolo più intelligente mai apparso sulla faccia della terra e riuscire a pensare ancora in modo greco sarebbe una grande forse l'ultimo rimedio che resta a questa umanità occidentale perché i greci avevano non avevano un'etica fatta di comandamenti di precetti e cose varie avevano un solo concetto non oltrepassare il tuo limite muoviti secondo misura katametron non oltrepassare la tua misura vuoi essere felice la felicità in greco si dice eudaimonia eo vuol dire buono daimon la buona riuscita del tuo demone e la felicità il demone è ciò per cui sei nato la tua virtù in termini religiosi la tua vocazione la tua abilità la tua caratteristica se la realizzi ma prima la devi conoscere perché se non la conosci realizzi i tuoi sogni quello che vedi in giro quello che ti piace quello che ti eccita conosci te stesso noti se auton e poi una volta che ti sei conosciuto non andare oltre la tua misura perché magari sei un bravo attore ma non sei bravo come Mastroianni e se cerchi oltrepassare la tua misura prepari la tua rovina la misura la misura da dove era nata è data la misura i greci i greci avevano il concetto di misura perché credevano nella morte gli uomini al pari dei viventi tutti i viventi animali piante nasce cresce genere muore e la morte è il grande limite non muori perché ti ammali ti ammali perché devi morire prima o poi e allora quando la vita ti è favorevole dicono i greci espandila più che puoi quando arriva la malattia o c'è il dolore substine e abstine tradotto in latino reggilo ed evita di metterlo in scena anche qui la misura consapevolezza del limite i greci non avrebbero mai scolpito i bronzi di riace perché sono fuori misura i greci scolpiscono il discobolo, la origa, secondo misura umana quando pongono il problema della tecnica il coro chiede a Prometeo che aveva donato la tecnica agli uomini secondo te è più forte la tecnica o sono più forti le leggi della natura e Prometeo risponde tecnica di gran lunga più debole della stenestra, astenia, debolezza di gran lunga più debole della necessità che governa le leggi di natura senza farle oscillare quindi la natura diventa quello sfondo immutabile e qui arriviamo alla concessione greca quello sfondo immutabile dice Eraclito che nessun uomo nessun dio fece sempre stata e sarà motivo ripreso da Platone contemplando la natura e le sue leggi bisogna costruire una città secondo natura e secondo natura costruire il percorso della condotta umana secondo natura la quale natura è assolutamente vissuta come indifferente alla condizione umana perché la natura interessa semplicemente la natura è caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente dal punto di vista della concezione che l'individuo ha di sé ciascuno di noi non vuole morire ma la natura ci destina la morte perché ha bisogno di ricambio organico ha bisogno di giovani per proseguire la specie non ha bisogno di vecchi i vecchi li consegna la morte e anche Goethe e con lui si avvia quel pensiero romantico concepisce la natura come una grande danzatrice che ha attaccato le sue braccia, le sue gambe al suo torace alle sue dita gli umani nella sua danza perde gli individui che le sono aggrappati senza fedeltà e senza memoria dice Goethe quindi la natura è inivalicabile e la tecnica portata da Prometeo agli umani deve essere contenuta nel limite della natura questa è la ragione per cui Prometeo è incatenato noi l'abbiamo scatenato abbiamo oltrepassato il limite oggi la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare quindi ci muoviamo a mosca cieca non sappiamo abbiamo scatenato Prometeo perché la tecnica non ha orizzonti di senso da dischiudere non ha scenari di salvezza da invitare non dice la verità lo scopo della tecnica è solo il suo autopotenziamento perché tutti la desiderano e lei desidera se stessa senza scopo non ha una finalità e qui verrebbe la pena che si recuperasse quella distinzione che aveva fatto aiutatemi come si chiamava mi manca il nome come si chiamava quel grande intellettuale degli anni 70 che hanno ucciso la periferia di Roma e se parlate tutti non sento Pasolini bravi era una prova eh ecco Pasolini aveva distinto aveva distinto però non erano tanti quelli che lo sapevano aveva distinto lo sviluppo dal progresso lo sviluppo e il potenziamento tecnologico all'infinito il progresso e il miglioramento delle condizioni umane alla tecnica non interessa niente delle condizioni umane ma non voglio fare una conferenza sulla tecnica voglio semplicemente dire come mai la tecnica è nata in occidente perché la tradizione giudaico cristiana non concepisce la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo o nessun dio fece no, non la concepisce così la concepisce come una creatura di Dio quindi buona perché tutto quello che Dio fa è buono ogni sera Dio si compiace con se stesso e leggete la Bibbia il Genesi e vide Elohim che ciò era buono dopo qualche problema sorge perché ogni tanto ci sono i vulcani ci sono i terremoti ci sono gli ilzumani ma questi sono problemi per quelli che ritengono che la natura sia buona le risolveranno loro per i greci era assolutamente indifferente alla condizione umana la natura ma qui non basta la natura buona tra l'altro Leopardi quello della luna in cielo dimmi che fai tu luna in cielo e di cui quest'anno si celebra anche i 200 anni dell'infinito che Leopardi ha scritto 21 anni 21 anni avete in mente i giovani di oggi di 21 anni ecco 21 anni aveva scritto l'infinito quando Leopardi dice ah natura natura perché non rendi poi quel che prometti a loro perché di tanto inganni i figli tuoi ma tu non ti ha promesso niente non ti ha mai ingannato sei tu che nonostante sei ateo tu sei ateo Leopardi non credeva in Dio però è una mentalità cristiana secondo cui la natura è buona creata da Dio dopodiché ti promette delle cose e poi ti mette lì in quella condizione in cui il povero Leopardi era con la sua malformazione corporee e chiaramente si arrabbia perché non rendi poi quel che prometti a loro non ti ha promesso proprio niente è la cultura cristiana che ti ha immaginato che la natura sia buona materna e cose di questo genere è assolutamente indifferente alla condizione umana però che cosa succede che il Padre Eterno l'ha consegnata ad Adamo e a Deva nella forma del dominio i greci non avrebbero mai pensato che la natura fosse dominabile ma se leggete il Genesi vedete che dopo l'allontanamento di Adamo e Deva per via del peccato originale Dio dice dominerai sui volatili del cielo sugli animali della terra sui pesci delle acque dominerai e dopodiché è partita la grande macchina occidentale non vi siete mai chiesto perché scienze tecniche sono nate in occidente sono nate in occidente su input cristiano non sarebbero mai nate in un mondo greco non sono mai nate nel mondo orientale sono nate in occidente e Bacone nel 1600 dice addirittura che con la scienza e con la tecnica noi recupereremo e ripareremo la colpa del peccato originale le pene connesse al peccato originale erano la fatica del lavoro guadagnerai il pane col sudore della fronte e il dolore partorerai col dolore dice Bacone con scienze tecniche noi ridurremo la fatica del lavoro e ridurremo il dolore è vero? quindi concorriamo alla redenzione vedete il filo diretto tra cristianesimo tra tradizioni giudaico-cristiane e scienza le cose non nascono così per caso nascono perché c'è un lungo lavoro di tradizione e in questa maniera noi ci siamo sentiti autorizzati a dominare la natura dominare la natura persino Kant quando fonda la sua la sua morale che riassumiamo per la breve non allungare troppo il discorso in una frase che lui dice che sintetizza la sua morale bisogna trattare l'uomo sempre come un fine mai come un mezzo non si è mai realizzata questa morale era una morale fondata sulla ragione Kant credeva in Dio però diceva non possiamo fondare la morale sulle religioni per la semplice ragione che ciascuno crede in una cosa e crede in un'altra invece abbiamo bisogno di una morale universale per fare una morale universale bisogna fondarsi sulla sola ragione e la proposizione è bisogna trattare l'uomo come un fine mai come un mezzo è una morale che non si è mai realizzata ma Kant lo sapeva però resta pur sempre come un'idea regolativa ciò verso cui dovremmo tendere non so se un immigrato viene da noi il fatto che sia un uomo l'uomo va trattato sempre come un fine mai come un mezzo non ci autorizza a trattarlo come un fine se però diventa un fattore produttivo allora sì come mezzo funziona come fine no l'uomo come mezzo funziona come fine no guardate che la vostra condizione negli apparati lavorativi dove voi siete non è differente dalla condizione dell'immigrato come mezzo funzionate come fine no gli apparati che vi ospitano col lavoro non hanno in mente le finalità della vostra vita chiuso la parentesi poi anche se si fosse realizzata questa etica non funzionerebbe oggi perché come si fa a trattare solo l'uomo come un fine tutto il resto come un mezzo non so l'aria è un mezzo nell'età della tecnica o è a sua volta un fine da salvaguardare l'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare e gli animali e le foreste e l'atmosfera e la biosfera sono tutti mezzi al servizio dell'uomo che morale è questa ma noi abbiamo una morale che si sia fatta carico degli enti di natura? no, non ce l'abbiamo perché una morale funziona quando diventa psiche collettiva una legge funziona se diventa psiche collettiva se non lo diventa non funziona se io stupro una ragazza vengo immediatamente riprovato da tutti se però inquino non così non vengo riprovato dalla stessa maniera quindi non funziona ci rendiamo conto allora che sia le morali sia le leggi funzionano se diventano psiche ma perché le cose diventino psiche ci vuole educazione la nostra scuola non educa lo dico a chiare lettere al massimo quando ci riesce istruisce quando ci riesce ma non educa perché l'educazione consiste nel far passare la gente dalla condizione pulsionale alla condizione di risonanza emotiva avere una risonanza emotiva dei propri comportamenti capire la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla capire la differenza non è che la capiscono sempre anzi e poi passare ai sentimenti che non sono qualità naturali sentimenti si imparano si imparano con la cultura tutte le tribù raccontano miti per insegnare sentimenti le nostre nonne raccontavano storie per insegnarci la differenza tra il bene e il male abbiamo la letteratura che ci insegna che cosa è bello che cosa è brutto ci insegna cos'è il dolore l'amore la noia l'acidio la disperazione la speranza il suicidio chi legge nelle nostre scuole non si legge io che ho raccolto le lettere degli studenti uno di prima media mi dice nella mia scuola nella mia classe sono io solo che leggo una ragazza di terzo liceo dice nella nostra classe siamo solo in quattro a leggere l'Italia è l'ultimo posto nella comprensione di un testo scritto questa è la condizione della nostra scuola disastrosa dopodichè gli effetti anche a livello politico si vedono ovviamente andiamo avanti dice Gunther Anders dice Gunther Anders l'umanità Gunther Anders era un allievo di Heidegger che è andato in America a lavorare alla Ford perché era perseguitato ebreo e dice l'umanità che tratta il mondo come un mondo da buttare via ha dato i rifiuti cioè pensate io sono vecchio e posso riferirmi ai miei genitori quelli più giovani di me possono riferirsi ai loro nonni ma non c'erano tutti quei rifiuti noi siamo una società dei rifiuti ormai si dava lo zucchero nella carta da zucchero per esempio va bene allora l'umanità che tratta il mondo come un mondo da buttare via diceva Gunther Anders nel 56 finirà per trattare se stessa come un'umanità da buttare via e ci siamo già arrivati senza ritegno e senza pietà come un'umanità da buttare via chiudiamo con ultime considerazioni questi fenomeni questi fenomeni si sono accentuati e diventati spaventosi con la globalizzazione la globalizzazione ha fatto crollare il comunismo Bukowski diceva opportunamente il comunismo il capitalismo è sopravvissuto al comunismo adesso divora se stesso bene però che cosa ha fatto prima di divorare se stesso ha esteso se stesso nel mondo oggi tutto il mondo è capitalista ma capitalismo vuol dire vedere gli uomini come consumatori e produttori vuol dire portare le cose al nulla vuol dire privilegiare coloro che hanno denaro e lasciar morire quelli che non ce l'hanno vuol dire tutte queste cose qua e noi da occidentali quali siamo abbiamo inventato i diritti umani la democrazia e anche il mercato quando però andiamo nel mondo se il mercato confligge con i diritti umani e con la democrazia lasciamo perdere i diritti umani e lasciamo perdere la democrazia e stiamo sul tavolo del mercato i nostri business con la Cina non mettono in gioco democrazia o diritti umani mercato dopodiché non diciamo che sono gli immigrati che ci portano via i nostri valori abbiamo rinunciato noi per primi ampiamente in ogni trattativa con i mondi ricchi o in via di crescita con cui ci interessava interagire sacrificando diritti umani e democrazia pur di salvaguardare il mercato sono possibili le rivoluzioni no non sono più possibili non sono più possibili le rivoluzioni l'ultima che c'è stata io penso che sia il 68 che poi non era poi una gran rivoluzione un po' di casino e dopo successivamente il degrado di questa rivoluzione che ha significato brigate rosse e brigate nere quella è la parte più riprovevole in ogni caso non è più possibile la rivoluzione perché come lo dice bene Hegel Hegel era un filosofo di destra però era intelligente ogni tanto capita che la rivoluzione è possibile dice Hegel quando c'è il conflitto tra due volontà tenete presente questa considerazione due volontà all'epoca nel 68 metaforicamente non so due volontà dice Hegel la volontà del signore e la volontà del servo nel 68 simbolicamente il signore era Agnelli e il servo era la classe operaia conflitto tra due volontà allora è possibile la rivoluzione vince uno vince l'altro ma oggi sia la volontà sia il servo sia il signore sono dalla stessa parte e hanno come controparte il mercato e cos'è il mercato? il mercato sono due assi cartesiane ascisse e ordinate punto di incrocio prezzo matematica pura mercato è nessuno un mio amico Romano Madera psicanalista e filosofo mi ha ricordato ultimamente che nessuno è sempre stato il nome di qualcuno che Omero già sapeva che nessuno era il nome di qualcuno ma come fai a trovare il nome di qualcuno nel mercato? chi è questo qualcuno? sappiamo che oggi il 10% dell'umanità ha l'80% della ricchezza mondiale ma dov'è questo 10%? dov'è? allora capite che io ho insegnato Venezia per 37 anni e sentivo l'umore economico del Veneto questa terra che aveva una fabbrichetta e mezza per famiglia durante il boom poi alla fine si è distrutta e ci sono stati tantissimi imprenditori veneti che si sono suicidati perché sia il servo che il signore si sono trovati dalla stessa parte con il mercato con cui come fai a prendertela col mercato? quindi la rivoluzione scordatevela non si può più fare è una delle ragioni per cui i ragazzi di oggi sono rassegnati voi pensate che quelli del 68 usciti dall'università gli avessero offerto un lavoro a progetto un lavoro co 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 un lavoro in affitto l'avrebbero accettato? oggi lo accettano e questa accettazione è diciamolo chiaramente l'accettazione anche di una totale mancanza di futuro per loro però si consuma e si produce la domanda che viene a questo punto è i fini dell'economia sono anche i nostri fini secondo me no però non abbiamo nessun potere per cambiarli questi fini dell'economia e navighiamo all'interno di questi senza accorgerci senza accorgerci è come i pesci che non si accorgono di avere l'acqua intorno noi ce ne accorgeremo subito perché viviamo in un altro mondo ma questo è l'unico mondo che possiamo vivere il mondo così come ve l'ho descritto e quindi non ce ne accorgiamo di essere in un contesto dove non abbiamo altra scelta se non quella di seguire i dettami dell'economia e a questo punto e a questo punto cosa ci resta? bene, adesso apriamo il discorso alle domande l'unica cosa che non mi dovete chiedere è che speranza c'è no, ve lo dico sapete perché? no, non ve lo dico tanto per ridere perché purtroppo purtroppo per beneficio insomma noi noi siamo tutti cristiani noi tutti siamo cristiani sia che uno dica che è ateo, che è credente, che è agnotico siamo tutti cristiani in Italia aveva ragione Croce a dire questa cosa solo che non l'aveva pensata abbastanza siamo tutti cristiani perché il cristianesimo ha avuto un'ideazione fantastica perché è finita la grecità perché la grecità che era l'altra fonte dell'occidente ha perso la partita perché il cristianesimo ha avuto la forza, il coraggio, il colpo di genio di dire non morirete mai e ha cambiato l'ordine del tempo mentre per i greci il tempo era ciclico ripeteva eternamente se stesso un po' come il tempo degli agricoltori primavera, estate, autunno, inverno poi il ciclo ricomincia e i vecchi che hanno visto tanti cicli possono insegnare ai giovani che ne hanno visti di meno ecco il cristianesimo invece ha iscritto il tempo non più nel ciclo l'ha iscritto in un disegno un disegno di salvezza dove alla fine in greco si dice escaton per cui il tempo cristiano si dice tempo escatologico alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato quando il tempo è iscritto in un disegno nasce la storia i greci non avevano storia la parola storia è una parola greca istor in greco vuol dire ho visto ho sentito c'ero cioè Tucidide ed Erodote non sono storici sono dei cronisti Erodote dice vi racconto le cose che ho visto Tucidide incomincia le sue storie dicendo che incomincia 10 anni prima dalla mia nascita perché prima prima non è successo niente perché non so niente non c'ero a vedere e non mi hanno raccontato quindi non sono storici la storia è un evento cristiano un evento e le religioni sono storiche perché scrivono il tempo in un disegno dove il passato è negativo peccato originale il presente è redenzione il futuro è salvezza la scienza che si ama a contrapporla alla religione è profondamente cristiana perché pensa la stessa maniera il passato è ignoranza il presente è ricerca e il futuro è progresso il cristianesimo puro il futuro è sempre positivo anche Marx è un grande cristiano il passato è in giustizia sociale il presente è per esplodere le contraddizioni del capitalismo il futuro è giustizia sulla terra anche Freud che scrive un libero contro la religione è anche lui un grande cristiano pensa che tutte le nevrosi i traumi si formano nel passato analisi nel presente guarigione nel futuro futuro sempre positivo quindi la parola speranza auspicio augurio l'idea che ditele ai giovani se il futuro è positivo chiedeteglielo a loro io sono assolutamente convinto che i giovani si drogano bevono e bevono tanto vivono di notte e non di giorno non tanto per il piacere che queste cose danno daranno anche del piacere non escludo ma la macchina di fondo è per evitare l'angoscia di guardare il futuro perché se guardo il futuro mi viene l'angoscia allora bevo allora mi drogo vivo all'assoluto presente dormo fino a mezzogiorno vivo di notte perché di giorno nessuno mi convoca nessuno mi chiama per nome e io non posso tollerare di vivere quotidianamente la mia assoluta insignificanza sociale chiedetelo a loro se il futuro è una promessa se il futuro è una speranza e non potete neanche chiederlo perché con voi non parlano più e io ho chiesto a loro perché le cose che dite a meno le dite ai vostri genitori ai vostri insegnanti e la loro risposta è stata educata ma feroce sappiamo già quello che ci possono dire e la prima questa qui forse probabilmente la prima generazione o forse la seconda in cui in tutta la storia non si è mai verificato che l'esperienza dei padri non passa ai figli perché i padri sono vissuti nel mondo reale i figli vivono nel mondo virtuale è un altro mondo garantito noi siamo vissuti nel tempo che era anche un tempo lento loro vivono nella velocizzazione del tempo dove non c'è neanche il tempo di riflettere bisogna rispondere emotivamente molto rapidamente c'è una trasformazione radicale parlare con loro se ci provate da adulti non ce la fate al massimo vi potete limitare a dire quanti esami hai fatto se vanno all'università a che ora torni come andato a scuola tutto lì in realtà la colpa anche vostra è che non avete incominciato a parlare prima quando potevate farlo da piccoli ma l'unica possibilità è che ogni tanto i giovani aprono una finestra a voi adulti e dicono qualcosa e voi li ascoltate però dovete ascoltarli con l'atteggiamento giusto perché se li ascoltate nella maniera ti lascio parlare e poi ti dico basta la finestra si chiude e non se ne parla più se li ascoltate con l'atteggiamento ti ascolto perché sono curioso del tuo mondo che non conosco allora loro incominciano a parlare siete capaci di avere questo atteggiamento non lo so comunque io sono vecchissimo e quindi non ho problemi con i giovani mi sono occupato di loro e adesso non ho più speranza neppure per loro e però che il futuro sia una promessa dice ci aveva già avvertito quando ha incominciato a parlare di nichilismo ha detto manca lo scopo manca la risposta al perché perché mi devo impegnare perché mi devo dar da fare se non c'ho niente davanti che mi attrae perché nella vita non andiamo avanti per cause efficienti che qualcuno ci spinge ma per cause finali che qualcosa ci attrae perché devo impegnarmi se il futuro non è una promessa ma è qualcosa di imprevedibile se non ha addirittura una minaccia perché mi devo dare da fare perché devo stare al mondo non so se sapete che in Italia si suicidano 400 ragazzi all'anno l'anno scorso a novembre sono andato a Locarno in una clinica psichiatrica e ha chiesto ma cosa ci faccio io qua e hanno detto ma l'abbiamo chiamata perché la Svizzera italiana ha superato la Svezia e il Giappone nel numero dei suicidi giovanili la Svizzera italiana e muoiono così con semplicità senza drammatizzazione con le lettere che lasciano scritte quindi tanti loro genitori mi mandano proprio come se andassero non so a vedere una partita di calcio invece vanno a morire con la stessa semplicità non c'è risonanza emotiva neppure della gravità della morte questo chiudiamo questo discorso con una bella frase di Heidegger Heidegger un filosofo forse il più grande filosofo del novecento è stato nazista intanto capita che ci siano queste contraddizioni vabbè il che non smentisce però la sua intelligenza la sua capacità previsionale e scrive inquietante non è che il mondo si risolve in un unico enorme apparato tecnico economico tecnico la cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo terzo grado di inquietudine è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa fare solo di conto Denken als Recknen un pensiero calcolante un pensiero che fa conti conti economici conti tecnici non abbiamo un pensiero alternativo e questa è la cosa più grave come fai a ribellarti come fai a muoverti altrimenti se non nell'ambito del far di conto a me è impressionata una storiella che qualcuno conosce già perché la cito ogni volta che un giorno io siccome vivo a Milano andavo a Venezia a insegnare è salito a Verona una ragazzina con un'arpa non quelle arpe enormi dalla scala più piccola però sempre incombrante insomma visto che era lì questa ragazzina con questa arpa l'abbiamo fatto posto a tutti si è messa lì e un signore molto interessato a lei si è messo a parlare con lei per una mezz'oretta interessandosi di questa arte e del suo entusiasmo e della ragione per cui la suonava e che cosa le dava e che soddisfazioni aveva e con quali altri strumenti si accordava e poi alla fine gli fa scusi io ho un'ultima domanda da farla suonando l'arpa dov'è il business? ecco questo si chiama pensiero calcolante capacità di fare solo di conto non abbiamo un pensiero alternativo siamo occidentali occidente vuol dire terra della sera tramonto forse dobbiamo tramontare forse lo dico per voi la vostra consolazione io sono sicuro grazie